Bene amici, lui è Oppo Find N e devo dire la verità appena l'ho preso in mano ho detto wow perché le dimensioni sono veramente compatte ma soprattutto ha due bei display purtroppo Oppo mi ha detto che non è ancora certa che lo importerà in Italia quindi ragazzi fate il tipo perché è un telefono che mi è veramente piaciuto proprio la prima impressione quando lo prendi in mano il touch and feel ve lo racconto un attimo abbiamo il sensore di impronta digitale messo qua all'esterno su una parte della scocca che è completamente in metallo molto bene i due display sia quello esterno che è da 5,49 pollici AMOLED sia quello interno da 7,1 pollici ovviamente AMOLED anche lui 120 Hz, 1000 nits di luminosità massima e quello che mi piace è proprio come il telefono diventi da compatto per comunque un 5 pollici e mezzo è comodo maneggevole da utilizzare anche se non è leggerissimo 275 grammi ma aperto abbia un display veramente grande per andare a visualizzare le foto a visualizzare i contenuti multimediali e anche perché no navigare sul web tra l'altro le funzioni software mi sembrano ben studiate c'è la modalità di continuità quindi quando si apre e chiude le applicazioni dal display grande o dal display piccolo vanno sul display grande oppure quello piccolo in base a dove abbiamo iniziato ad utilizzarle e poi anche il multitasking swipe giù una parte viene dedicata a un'applicazione posso aprire dall'altra parte qualsiasi tipo di applicazione se faccio swipe qua sul pop up laterale posso aprire altre applicazioni fino a 2 che vanno in overlay decisamente comoda come gestione del multitasking mi sembra particolarmente veloce oltre al fatto che appunto sia 120 Hz il processore è lo Snapdragon 888 8256 oppure 12 512 per quanto riguarda la memoria anche il comparto camera è interessante anche l'implementazione del software sulle camera è interessante vi faccio vedere come dietro ci sia una 50 megapixel con OIS quindi stabilizzazione ottica dell'immagine poi una 2x da 13 megapixel e la 123 gradi grandangolare da 16 megapixel ho fatto qualche foto qua nella location dell'evento e anche un video che come vedete si vede decisamente bene tra l'altro ha le feature intelligenti quando lo si mette piegato probabilmente non nei video ma poi vi faccio vedere nelle applicazioni che la implementano molto bella la macro ma anche la grandangolare fotogeneraliste e i selfie questo fatto con la camera interna a 32 megapixel questo con quella esterna perché vi dicevo prima delle feature software per esempio nella fotocamera prima di tutto tutto schermo ma andando a piegarlo vedete come la visualizzazione passa su una parte mentre i comandi passano sull'altra questo è comodo perché si può appoggiare magari fare una foto a lunga esposizione magari notturna anche in verticale ovviamente per magari fare dei time lapse ma volendo si può attivare lo schermo esterno con questo pulsante qua per far vedere magari alla persona che si sta fotografando e questa per le ragazze è fondamentale che tutte le volte dicono ma fai vedere la foto come sei venuta come sono venuta eccetera eccetera così la possono vedere in diretta ma soprattutto se io attivo la camera selfie mentre il telefono è aperto schiacciando questo pulsante mi si attiva la camera esterna così che io possa fare delle fotografie selfie con la camera con più qualità quindi con la 50 megapixel molto bene anche coi video funziona alla stessa maniera ma torniamo a bomba perché volevo farvi vedere per esempio se io apro le note schiaccio più tastiera divisa molto comoda per scrivere ma se io faccio così in teoria dovrebbe andare in orizzontale eccola fatto e qua ovviamente io posso scrivere tipo laptop in maniera più comoda la batteria 4500 mAh carica 33 watt ovviamente c'è la carica wireless molto belli i materiali perché vedete vetro satinato all'esterno ovviamente Gorilla Glass Victus per quanto riguarda il display esterno e l'altra cosa che mi è piaciuta vediamo se riesco a farvelo vedere è che la piega praticamente del display non si vede è uno dei display ovviamente plastici però più lisci guardate anche adesso che ho spento tutto come non si vedono tanto le pieghe le curve insomma è bello liscio questo anche perché c'è un movimento particolare se io vado a chiudere il display qua il meccanismo da cerniera fa sì che lo schermo non si chiuda avviva faccio una sorta di goccia di questa forma e tra l'altro quando si chiude vi faccio sentire il rumore sentite fa proprio spoff il che vuol dire che dentro rimane dell'aria insomma c'è una chiusura quasi ermetica per non far entrare la polvere nel display vi dicevo tante belle parole ovviamente c'è il Play Store ovviamente ci sono i servizi Google vi faccio vedere anche il sistema operativo che è la ColorOS versione 12 basata su Android 11 chissà se arriverà anche la 12 ma tutto questo passa dal fatto che Oppo ripeto non ho ancora deciso se importarlo o meno quindi bombardateli qua nei commenti per far sì che questo Find N arrivi anche da noi perché è veramente interessante spero di farne recensione presto perché vorrebbe dire che hanno deciso di portarlo in Italia ciao